Sì, dice benissimo. Il vero problema del ballottaggio è motivare le persone che devono effettivamente riprendere a correre, non per un simbolo, non per se stessi, perché non si corre più per quanto concedono i candidati al Consiglio Comunale, ma soltanto per il Sindaco. Scorso apparentamento ufficiale o meno è un discorso delicato, perché se da una parte questo potrebbe dare la possibilità di avere teoricamente un appoggio di liste che per il momento sono state escluse come rappresentanza Consiglio Comunale, dall'altra però creerebbe e crea dei problemi di equilibrio rispetto alle liste originarie che fanno parte delle coalizioni sin dall'inizio. Per cui è un discorso molto delicato. Noi come coalizione di centrodestra lo stiamo valutando evidentemente con molta attenzione. Quello che mi piace dire da subito, di maniera ufficiale, è che certamente la coalizione di centrodestra, come peraltro ha già detto da subito il nostro candidato sindaco, la dottoressa Bruno, certamente non cercherà e non farà degli apparentamenti, come dire, innaturali. Se di apparentamento noi potremo e dovremo parlare, lo faremo soltanto con qualche forza che, come dire, si trova nella coalizione di De Pascalis per delle ragioni così molto strane e per certezze anche incompensibili. Oggi tutto è un po' innaturale in questa politica, soprattutto a livello locale. In alcuni comuni, in alcuni piccoli comuni di questa provincia, della provincia di Lecce, abbiamo avuto dei candidati a sindaco sostenuti per esempio dal PD e dal PDL. C'è molto di innaturale. Questo che dice è verissimo, però, come dire, smentito dalla coalizione di centrodestra di Nardò, che si è presentata veramente in maniera compatta, politicamente omogenea, ha tagliato, come dire, dei rami secchi prima della chiusura delle liste. E' veramente questo discorso che, ripeto, che fa lei perfetto per tante altre coalizioni, per tanti altri paesi. Certamente non lo è per la coalizione di centrodestra di Nardò, laddove Nuovo Corso, PDL, Puglia e Mani Tutto, oltre alla lista del sindaco, tutto si può dire, tranne che non siano delle forze che sono da sempre mosse nell'ambito del centrodestra. E per quanto riguarda Nuovo Corso, devo dire, e lo ribadisco ancora una volta, ha dimostrato veramente tutta la sua coerenza. laddove effettivamente poi è rimasto al suo posto, nonostante dei problemi che ci sono verificati prima della chiusura delle liste e comunque nella fase, come dire, della formazione, della composizione della coalizione. Tutti quanti ricorderanno, la cosa è stata anche sottolineata dal ministro Fitto, in sede di presentazione della dottoressa Bruna, candidato al sindaco. Tutti quanti ricorderanno il passo indietro importante del sottoscritto rispetto ad una candidatura che sembrava e pareva naturale e comunque era voluta da molti. Il sottoscritto non ha rotto la coalizione, come invece hanno fatto altri, dimostrando, credo, veramente attaccamento alla coalizione stessa e comunque uno spirito di appartenenza raro. Ma certamente non si può ricostruire dal nostro punto di vista ripartendo da dove si è lasciato. Ricordo a tutti che il primo ottobre del 2010 l'amministrazione Baglio è stata mandata a casa da 16 consiglieri che hanno sfiduciato il sindaco e da allora si è aperta la fase del commissariamento che dovrebbe terminare domenica, martedì prossimo, dopo il ballottaggio del 29 del 30 con l'elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo sindaco. L'amministrazione che è andata a casa è un'amministrazione di centro-sinistra, è un'amministrazione che nelle persone e nei papabili futuri assessori è esattamente la coalizione che sorregge Risi e che sostiene Risi. Perché se uno va a scorrere le liste di Marcello Risi, candidato sindaco, si rende conto perfettamente, e questi sono fatti incontestabili e inconfutabili, che tantissime persone che hanno avuto delle responsabilità a livello di deleghe e non solo nella disastrosa, sciagurata amministrazione Baglio che è stata mandata a casa, come dicevo prima, il primo ottobre dello scorso anno, moltissime di queste persone sono nelle liste di Marcello Risi. Per cui il messaggio che voglio lanciare chiaro e in maniera seria ai cittadini di Nardò è che se davvero vogliono rinnovare e sono stanchi di quello che è stato Nardò fino al primo ottobre del 2010, allora certamente non possono scegliere Marcello Risi che si è presentato con una sorta di verginità politica che assolutamente non gli appartiene, naturalmente parlo su un piano sempre strettamente politico, ma è su un piano personale, Marcello peraltro è mio ottimo amico, che non gli appartiene non solo, ma non appartiene soprattutto alle liste che lo sorreggono e a coloro che hanno la paternità delle liste, tanto per non fare nome e cognome, Giovanni Siciliano, Maurizio Leuzzi, Giuseppe Fracella, non credo proprio che possano queste persone parlare di rinnovamento di classi dirigenti, di nuova politica, di fare il bene della città, quando hanno avuto 15 anni per farlo e non sono riusciti a farlo. Grazie. Ringrazio anche io la signora che mi dà la possibilità di chiarire e precisare una cosa, anche qui io poi parlo sempre di fatti oggettivi e quindi che si prestano poco poi a delle interpretazioni. Le dimissioni al sindaco Vaglio sono state firmate... Anche se un avvocato di professione interpreta quasi sempre. Ma in claris non fit interpretazio a proposito di avvocato, per cui dicevo che i tre... Sì, chiaramente si fa per scherzare anche un po'. I tre consiglieri di Nuovo Corso e Bernardo, il sottoscritto, Muci e Capodi, hanno firmato le dimissioni al sindaco Vaglio. Non solo, sono stati determinanti nella cacciata del sindaco Vaglio, per tutta una serie di ragioni che adesso non sto qui a rimangare perché te direi le persone. I cinque, sei consiglieri della Puglia, prima di tutto, che è una parte importantissima della consiglia di centrodestra, firmarono a suo tempo le dimissioni al sindaco Vaglio. Non furono firmate, rispetto alla coalizione che oggi sostiene la Bruno, dal PDL di allora. E devo dire che era un PDL completamente diverso da quello che oggi sostiene, proprio nelle persone, oltre che nei dirigenti locali, era un PDL completamente diverso da quello che oggi sostiene Antonella Bruno al sindaco di Nardò. Quindi questo per essere molto chiari e netti sul discorso di chi abbia o meno firmato le dimissioni e quindi di chi abbia o meno preso le distanze in maniera formale e netta da quella amministrazione. All'amico Alfredo Ronzino, io voglio dire, oltre che complimentarmi per la scelta che anche oggi ha ribadito di non apparentarsi ufficialmente con nessuno. Devo dire che quattro anni fa questa scelta fu fatta dal sottoscritto, perché quelle tante cose delle quali oggi si fa tra virgolette paladino Alfredo Ronzino, diciamo noi le abbiamo anticipate quattro anni fa nel 2007 quando il sottoscritto andò da candidato sindaco con la sola lista di nuovo corso per Nardò, sfiorò il 10%, entrò in consiglio comunale, non si apparentò con nessuno e da allora ha fatto un percorso consigliare trasparente, leale, corretto, coerente, rimanendo sempre al suo posto e denunciando in consiglio comunale e non solo tutte le storture dell'amministrazione Vaglio, un episodio per tutti, mi piace anche questo ricordarlo a chi avesse la memoria corta, il bilancio del 2009 famigerato è stato portato fino al consiglio di Stato dal sottoscritto ed è stato bocciato, da lì è iniziata praticamente la fine dell'amministrazione Vaglio. Però voglio dire a Alfredo Ronzino che la politica poi si deve fare per quella che è la mia modestissima esperienza di questi quattro anni, si deve fare dall'interno del palazzo, all'interno del palazzo. Il fatto che lui non sieda in consiglio comunale, nessuno dei suoi sieda in consiglio comunale, a me francamente e sinceramente dispiace moltissimo, perché soltanto sedendo in consiglio comunale e potendo proporre le interrogazioni, potendo scardinare dall'interno, si può effettivamente poi fare un'azione incisiva. Io mi auguro che lui possa continuare a tenere fede alle premesse, alle promesse di rottura con un certo tipo di fare politica dall'esterno. Permettetemi di dire che sono un po' scettico, perché non è che io debba fare il difensore di Berlusconi o del governo di centrodestra, però insomma il discorso di Alfredo Ronzino che è condivisibile in linea di principio, però è sicuramente anche da trasferire alla centrosinistra e a quella parte di politica, di partite, di movimenti politici che oggi non sono al governo della nazione, ma che lo sono stati, sono al governo di tante città anche importanti, dell'Italia e del nostro Salento e che certamente non hanno fatto meglio e non fanno meglio del governo di centrodestra. Questo per dire che la crisi di cui ne parlava giustamente lei all'inizio della domanda dei partiti tradizionali sicuramente c'è anche questa oggettiva, le ragioni sono le più diverse e molteplici e devo dire che nel nostro piccolo, come nuovo corso per Nardò, tornando alla realtà locale di Nardò, noi questi segnali di insofferenza li avevamo colti già nel 2006 quando demmo vita questo movimento e quando poi nel 2007 iniziamo la nostra avventura, la nostra vicenda politico-amministrativa in quel di Nardò. Oggi questo fenomeno del cosiddetto grillismo nella persona di Alfredo Ronzino a Nardò è un po' diciamo, anche se su basi diverse, un po' il seguito di quella che è stata l'avventura, almeno inizialmente, di Nuovo Corso. Noi però, vedete, a un certo punto abbiamo anche dovuto fare una scelta di campo perché ci siamo resi conto che fare le battaglie contro tutto e contro tutti e dire che mai niente va bene senza cercare poi di costruire, di fare delle proposte concrete e soprattutto di avere la possibilità, il potere, ma in senso buono, in senso positivo, non in senso de genere, di incidere rispetto alle istanze dei cittadini. Questo lo si poteva fare, lo si può fare, al nostro modo di vedere, soltanto all'interno di un partito strutturato, comunque di una coalizione strutturata. Per l'altro Nuovo Corso da tempo si è dato a una struttura di partito e l'unico tra movimenti e partiti a Nardò che, per esempio, svolge i propri congressi, direttore, è l'unico che ha un suo laboratorio di cultura politico-amministrativa, seguitissimo e molto, molto importante. E quindi, voglio dire, va bene tutto quello che si è detto, però trasferiamolo anche alla parte del centro-sinistra e comunque credo che poi i problemi debbano e possano risolvere soltanto i partiti con quella coalizione strutturata. Sarò velocissimo. Io non faccio nessuna ideologia, io parlo di cose concrete. Io ho fatto delle cose, come Nuovo Corso e il Consiglio Comunale, che in 50 anni di storia democratica Nardò non ha mai fatto nessuno. Cioè, andare alla Corte dei Conti e denunziare dei vizi, delle irregolarità formali e di sostanza di alcuni bilanci, l'ho fatto solamente io. Andare fino al Consiglio di Stato e far bocciare un bilancio dal cui bocciatura è iniziata alla fine dell'amministrazione Vaglia, quelli sono fatti concreti, altro che ideologie, altro che non fare quello che si dice, altro che andare lì per fare il signor sì, come invece fanno tantissimi altri. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, cerchiamo di essere tutti quanti, lo dico con molta simpatia, ma anche con molta fermezza, di essere informati quando si parla delle persone e dei movimenti, di non fare di tutta l'erba un fascio, perché qualsiasi forma appunto di qualunquismo è soltanto demagogia e non porta assolutamente a niente. Grazie. Direi una cosa, è banale dirlo ma è necessario, in politica come nella vita sempre si può fare di più, si deve fare di più, si deve dare di più, però insomma muovere dei rilievi al percorso di Nuovo Corso è veramente credo assolutamente ingiusto, fuori luogo, perché quello che è stato fatto dal sottoscritto e dal gruppo di Nuovo Corso in Consiglio Comunale è anche fuori, è veramente sotto gli occhi di tutti, quindi mi sembra veramente una polemica che non ha proprio il, non ha motivo di esistere, dopodiché, dopo di che, Gandhi ce lo insegnava, ognuno di noi deve dare il massimo nel proprio piccolo, tanti piccoli contributi fanno le cose grandi, io ho la coscienza pulita, per cui, sì, è un tema che a me, a noi di Nuovo Corso, ma credo di poter dire a tutta la coalizione di centrodestra, sta molto a cuore, noi abbiamo titolato il nostro secondo congresso che si è svolto a novembre a Nardò, proprio legalità e coerenza, e il nostro slogan elettorale, lo slogan elettorale della nostra lista era legalità e coerenza, ma per noi non è soltanto il titolo di un congresso o lo slogan di una fase di campagna elettorale, e abbiamo dimostrato con i fatti di tenere moltissimo a questo concetto, prima ho ricordato alcune iniziative nostre molto pesanti, importanti in consiglio comunale, e io direi una cosa direttore, che questo concetto dovrebbe proprio essere come dire in re ipsa, cioè un consigliere comunale di maggioranza o di minoranza che sia, dovrebbe sempre avere come stella polare questo concetto imprescindibile della legalità, e faccio anche degli esempi concreti, da consigliere comunale uscente. Nel caso dei consiglieri comunali di minoranza sicuramente il compito è quello di vigilare sempre al massimo, di spulciarsi le delibere, e laddove si riscontrino delle irregolarità è dovere, è compito del consigliere comunale prendere carta e penna, farne una battaglia anche giuridica, anche giudiziaria, oltre che politica, ma alla stessa stregua, e io mi auguro di poterlo interpretare sin dal 31 di maggio questo ruolo di consigliere di maggioranza, alla stessa stregua dicevo, per un consigliere di maggioranza è fondamentale indirizzare la gestione della cosa pubblica assolutamente sempre entro i canali della legalità, e a questo proposito io voglio dire con molta chiarezza, a dispetto delle battute, a volte anche volgari e fuori luogo che vengono da una certa parte politica nelle retine in questa fase, noi di Nuovo Corso non cambieremo mai rotta, perché minoranza o maggioranza che dovessimo essere, noi continueremo sempre nelle nostre battaglie di legalità, saremo sempre vigili a che anche come maggioranza e come quindi amministratori che danno la dritta e indicano la direzione dell'amministrazione comunale e della società di Nardò, noi faremo sempre in pieno il nostro dovere, questo ci ha sempre contraddistinto ed è un impegno concreto, serio e solenne che prendo con tutti gli elettori neretini. Non so quanto questi impegni possano prenderli concretamente, solennemente e seriamente quelli del centro-sinistra, molti di quelli che sostengono Marcello Risi, tra i quali non mi pare di ricordare nessuno che abbia sostenuto l'iniziativa del sottoscritto di nuovo corso quando si è trattato di impugnare il famigerato bilancio del 2009, non mi pare di ricordare tra le loro fila qualcuno che abbia sostenuto l'iniziativa del sottoscritto presso la Corte dei Conti e voglio dire che l'istruttoria avviata della Corte dei Conti è in fase di chiusura, quindi probabilmente poi ne vedremo delle belle rispetto a quei consiglieri di maggioranza che si sono limitati con un fare devo dire molto poco dimitoso a fare i signorzi in Consiglio Comunale senza andare a guardare poi di che cosa si trattava e che cosa stessero andando a votare per cui questo è quello che penso in materia di legalità questo è soprattutto quello che ho abbiamo fatto perché poi la differenza la fanno sempre i fatti chi compra i voti questa è una domanda interessante io invito entrambe le coalizioni anche a fare un po' di autocritica in questo senso io mi inserisco un attimo se mi permettete per dire che con queste considerazioni almeno per quanto mi riguarda parlo a titolo personale Alfredo Ronzino sfonda non una volta ma un cancello aperto io ho fatto degli appelli pubblici anche su queste emittenti nel corso della campagna elettorale oltre che sui siti locali di Nardò e sulle altre emittenti televisive provinciali proprio rispetto alla libertà del voto ai condizionamenti del voto devo dire e quindi su questo siamo non d'accordo ma di più e anch'io mi sono mostro nei due giorni di elezioni facendo anche di più Alfredo perché mi sono mostro presso i dirigenti della questura e perché anche a me erano giunte voci di presunte perché fino a quando non vengono acclarate sono presunte irregolarità ovviamente io più che segnalare e chiedere un intervento quantomeno a livello di vigilanza molto rigorosa e di controllo molto rigoroso io chiaramente non potevo fare perché va da sé che se io fossi venuto o venissi a conoscenza diretta con prove faccio l'avvocato quindi insomma penso di parlare con cognizione di causa diretta di reati come dici tu tu ti spingi molto oltre io certamente non esiterei a prendere carta e penna e ad ad dire la procura della Repubblica però questo è concludo vedete è un discorso anche che coinvolge non solo e non tanto alcuni politici se così possiamo dire o politicanti che fanno queste schifezze perché si parla di vere e proprie schifezze ma è un discorso anche di natura come dire culturale che coinvolge poi gli elettori perché il volo di scambio probabilmente è il livello massimo dello schifo e mi scuso per la volgarità ma voglio essere proprio incisivo in quello che dico perché è una cosa che mi sta molto molto a cuore ma è vero pure che non va bene per esempio che senza arrivare al voto di scambio ma non va bene che per esempio un elettore venga condizionato rispetto alla sua espressione di voto che rappresenta il momento più alto al mio modo di vedere di libertà e di democrazia da una richiesta o non un favore su un certificato piuttosto che ad una pratica di pensione piuttosto che insomma ad altre cose che ripeto non raggiungono la compravendita del voto ma comunque sono emblematici di una certa cultura insomma che non va bene il problema pratico concreto e quindi anche politico a pochi giorni dal ballottaggio è uno non è credibile chi ha avuto la possibilità in questi ultimi 15 anni dico 15 anni di vita politica e amministrativa neretina di incidere in maniera importante in questi ultimi 15 anni però c'è anche qualche esperienza di centrodestra no ci sono due anni di centrodestra dell'Anna che insomma due su 15 mi sembrano comunque voglio dire anche qui non è che voglio difendere o debba difendere dell'Anna me ne guarderei bene però da un punto di vista politico però voglio dire due su 15 mi sembrano veramente pochi chi invece ha amministrato la città in questi ultimi 15 anni sono tutte le persone che oggi sostengono Marcello Risi al sindaco di Nardò lo stesso Marcello Risi è stato per 5 anni 5 vice sindaco di Antonio Vaglio 2002-2007 Antonio Vaglio che voglio dire per inciso appoggia a spada tratta Marcello Risi nella prima fase e adesso anche nella fase di ballottaggio le crona che riportano e anche qualche foto di un calorosissimo abbraccio all'entrata del seggio qualche giorno fa tra Marcello Risi ed Antonio Vaglio cosa che naturalmente non scandalizza nessuno dal punto di vista personale ma che dovrebbe far aprire gli occhi ai cittadini di Nardò quando da qui a qualche giorno andranno a scegliersi il nuovo sindaco perché io lo voglio dire in maniera anche qui molto chiara e diretta cari amici ed elettori neretini se si vuole dare una svolta vera e seria non può che esserci una scelta in questo momento ed è quella di Antonella Bruno che è persona per bene capace non compromessa con i giochi giochini della politica ed è soprattutto sorretta e sostenuta da una coalizione omogenea coesa vera e coerente oltre che penso anche di qualità in molte persone che la compongono e questo non è evidentemente per Marcello Risi che ripeto ha già potuto dare non ha dato e soprattutto per le persone che lo sostengono per cui veramente se i neretini dovessero ancora come dire predicare bene nel senso che si lamentano sempre di quello che non è andato finora ma razzolare male andando su Risi beh non si potrebbe parlare che di masochismo dei neretini e questo mi dispiace e questo e che non è andato non è andato